Erwin, cominciamo da Rio, passata la rabbia per quell'eliminazione olimpica in cui ha contribuito, insomma anche l'Italia. La rabbia? Non era rabbia, solo che l'Olimpiadi è un sogno da bimbo per tutti, quindi uscire così, anche se non abbiamo giocato bene, come l'ho detto, penso che il quarto posto se lo meritavamo. Quindi non è rabbia, solo che per noi era veramente una desilusione, però sì, certo, la vita continua e adesso sono a Modena e provo di fare il meglio per Modena. Hai detto però con i tuoi compagni di squadra che erano in nazionale e soprattutto con Vettore, nessun problema perché loro con Canada hanno dato quello che dovevano dare? Ma io non ho problemi con giocatori, solo che lo sport va così, loro hanno vinto i dritti di poter non giocare questa partita, quindi basta. È così, non ho avuto problemi dopo questa partita con giocatori, assolutamente no. Per quanto riguarda invece la nuova stagione con Modena, se riparte da quello scudetto che vi siete fuciti sul petto, l'obiettivo insomma di magari eguagliare quello che è stato fatto l'anno scorso sono migliore. Sì, certo, penso che abbiamo fatto una squadra per vincere tutto, quindi proviamo a fare il massimo, poi spero che le cose vanno come l'anno scorso, però non si può dire, dobbiamo continuare a lavorare, iniziare a conoscerci bene e poi iniziare. Una domanda invece per Svan, come è stato questo primo mese di lavoro a Modena e come è questa tua prima esperienza lontano dalla Francia? Sì, sono molto felice per il momento che ci ha fatto con l'ambienza della squadra. Io sono felice per l'ambizione che ha vinto nel club e come è diventato in questo momento. E' stata la prima esperienza a l'estranger, perfetto per me. Ha detto che per lui è un onore essere qua, lavorare in una società così, con un ambiente così di lavoro, ha trovato dei compagni di squadra che sono molto bravi, che l'hanno aiutato durante questa prima perioda e poi è molto contento. Per me ritrovi Roberto Piazza e come l'hai ritrovato dopo un po' di anni? Iguale, lui piace stare in palestra con i giocatori, mettere un ambiente di lavoro ma anche di divertimento, quindi l'ho ritrovato uguale quando era a Cuneo.